quel periodo per me figlia di sindacalista era un periodo è stato periodo indimenticabile perché anch'io mi sentivo così guerresca o cosa insomma e fare il film dei taviani così collaborava a farmi sentire non un'attrice ma diciamo una persona che fa del cinema scavalcando fossi campi perché prima eravamo siamo stati a guadagnolo poi siamo stati nella come dire nel a grosseto nei grossetano nelle spiagge ma messi così proprio come dei dei selvaggi ecco un tempo selvaggio questo voglio dire che a me piaceva anche se mitigato molto dalla compostezza gentile però il rimovibile dei taviani che se vedevano che una di noi si dava un po' di rimel si diceva lui un po' di un po' di mascara non so tornava a fare la valle la valle o i fossi o i campi non so ecco per cui stavamo tutte in campana perché loro erano molto attenti a queste piccole civetterie che essendo delle ragazze avevamo un po' un film per me indimenticabile perché poi ci si alzava prestissimo questo naturale come in molti film non è che è una novità però si doveva poi fare un altro viaggio lungo per arrivare al posto tutto era molto spartano dunque ricordo tutti i letti tipo convento vicini a olimpia carlisi per dire adesso laura marchi la cosa non solo in tante che eravamo no perché e allora alla sera volevamo fare dei giochi così che a volte sono stati anche pericolosi perché chi getteresti dalla torre che così il giorno dopo che poi era mattina erano albe nessuno parlava con nessuno era un tempo che senza che lo sapevamo mentre giravamo era un tempo proprio sessantotecolo lo era nel quotidiano di un set eravamo ragazzi e torno a dire questo tempo molto così molto non anarchico ma abbastanza libero in un certo senso arrivò la Bose che aveva appena incendiato la camera da letto di suo marito che stava penso con la nipote o la cugina non è un'impecevolezza una cosa di cui avevamo parlato tutti i giornali per cui la Bose lo lasciò e venne a girare lì e preparava delle buonissime merende così stendendo dei panni per cui era non so come dire Gian Maria Volontè aveva quel suo parlare della barca poi si isolava no e intanto Mireille Dark sopra che aspettava così ore quasi però ecco Broggi era più grande ma insomma voglio dire così giocavano a Carp tanti ragazzi c'erano anche i registi no da Massimo Castri eravamo è stato indimenticabile in un certo senso ecco un periodo certamente la vicenda aveva una forza e per me poi era anche una forza cioè aveva una visionarietà che io non avevo capito mentre ci stavo dentro ecco facendo parte visionarietà e anche qualcosa di così di mitico un po' di ecco che ho visto quando ho visto il film ma dentro pareva tutta una cosa di fatica molto contadina no contadina ecco per cui no io lo ricordo con grande felicità perché per me è stato felice conoscere felice e fortunato conoscere il film attraverso i taviani conoscere il cinema attraverso i taviani e stare in un film che mi sembrava così un po' una scampagnata a volte faticosa a volte cosa ma era così era un bellissimo era di buon auspicio si pensava chissà se i sette sono così non era non è stato così però con loro lo è stato dunque lo ricordo con grande allegria loro sono sono a me incuriosivano perché erano sempre eleganti se si può dire la parola usata in maniera e punto non manierata ma in maniera intonata no sempre intonati ecco senza fare quello che è vestito da regista quel lato che si è vestito no vestiti come una giornata come una stagione come come delle foglie come una vegetazione eleganti dunque sempre molto calmi altra cosa che avrei saputo più tardi non avveniva in tutti i set molto calmi calmi e dando una dimensione armonica di come erano loro anche proprio come fisionomia oltre l'eleganza però non di buon senso né di logica che non amo molto ma di una fermezza che alla quale ubidivi proprio perché non era né troppo severa in senso duro ma come ho detto irremovibile e questo credo ci ha fatto tutti stare disciplinati pur nel caos diciamo di come poi era avevano preso dei ragazzi eravamo tutti e dunque alle prime così non è che conoscevamo però loro sapevano sapevano come farci funzionare e anche rivedendolo il film sono stata veramente colpita di come hanno fatto funzionare da attori anche quelli che poi attori non lo sarebbero stati caso mai sarebbero stati rivisti oppure avevano fatto e facendoci tutti tutti appunto funzionare perché la loro loro modo è in una parola necessario ecco loro hanno un discorso preciso perché è necessario né di più né di meno e questo è abbastanza speciale diciamo per me sono due creature in qualche senso potrei dire in qualche modo enigma no abbastanza perché c'è un accordo evidentemente sotterraneo lo ci penseranno prima però è talmente così enigmatico nel senso senza inclinature fuori senza eccessi senza discussioni come se tutto fosse abbastanza di colori che si fondono due colori che si che si fondono no anche abbastanza vicini voglio dire ecco colori come potrebbero essere che sono un rosso e un rosa ecco verde e un blu scusi sono due colori che si fondono io però trovavo abbastanza enigmatico questo accordo perché era diciamo quasi perfetto ecco forse se ho visto una dolcezza o dolcezza diciamo un accudimento in qualche modo forse l'ho visto con la Bosè la Bosè veniva anche da da un'avventura terribile in un certo senso poi era da molto che non stava non recitata era stata in Spagna là a toreare insomma a toreare altro però ecco e lì era altrimenti insomma mi sembra era uguale se c'era poi da fermare da fermare magari poteva essere già Maria poteva permettersi qualcosa di più di sopra le righe no ma anche quello ecco sapevano no no erano uguali come con Giulio Broggi con io parlo adesso con quelli più avanti io ho visto delle scene che girava già Maria che anche poi ho conosciuto di cui sono stata e che mi colpiva molto perché lui volentieri parlava prima di recitare non è che stava zitto e poi all'azione parlava parlava già le diceva le parole oppure come sembrava un po' un matto questo era no 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 questo era molto seguito lo sapevano italiani mi piace come loro raccontano a volte fino al limite del fiabesco se è possibile o del mitico o del ecco la dimensione fantastica mi dà una grande speranza il loro cinema come se appunto qualcuno un contadino potesse sentire diventare il re un carcerato appunto potesse diventare Giulio Cesare è una mi dà speranza perché c'è sempre la forza che interna l'uomo nei loro film anche nella donna no c'era quella attrice che mi piace tanto spagnola però Margherita Lusano ecco che in qualche modo in altro modo da le attrici mingherline eccetera aveva questa postanza e questa cosa di speranza un po' anche di speranza così dai mortali